a me per me su dove c'è mio canna sopra il legno mi portava via e se va giù non mi piace questa posizione a me non lo so, a me mi portava via, io non l'avrei tenuto se non venivi te vuoi provare? no vai pure è ciocciocciottino aspetta spingo qua eh, porto qua, vai via è grossotto bello, levo la canna, levo la canna aspetta no 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 attenzione, attenzione attenzione che la canna che bel pesciolotto allora aspetta sto facendo casino ti volevo fare la foto con la macchina fotografica posso? sì basta grazie 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 grazie